Il percorso dell'Associazione Ragazzi Speciali Ollus di Castiglion Fiorentino ha inizio nel 2005 con l'obiettivo di prendersi cura di un gruppo di giovani con disabilità e accompagnarli nel loro percorso di crescita. Durante gli anni questa realtà di volontariato della Val di Chiana ha creato una rete di collaborazioni con altre associazioni locali tra le quali anche l'Avis prima compagna di viaggio sin dal 2003. Oggi le attività promosse dal gruppo guidato da Sara Rapini offrono anche la possibilità di inserimenti lavorativi per i ragazzi. Parliamo adesso di agricoltura sociale. I ragazzi della vostra realtà sono impegnati nel progetto dell'orto botanico come è strutturato? Un progetto della regione toscana fatto con aziende del territorio quindi della zona val di Chiana quindi progetto agricoltura sociale val di Chiana. Da qui noi abbiamo con i ragazzi impiantato da un orto incolto abbiamo impiantato un giardino che abbiamo chiamato appunto l'orto botanico. Questo giardino è molto importante perché i ragazzi hanno imparato a coltivare insieme con l'aiuto degli agricoltori aderenti al progetto. Hanno imparato da mettere in pianta su terreno le piantine fino ad arrivare a studiarci un percorso per i bambini, per le scuole. Quindi è nato proprio un percorso sensoriale. Le iniziative proposte dalla vostra associazione offrono anche la possibilità di inserimento lavorativo per i ragazzi? Speriamo che questo percorso si concluda con un inserimento lavorativo in azienda anche per i ragazzi. Per adesso i ragazzi comunque devono fare un affinamento delle loro abilità anche perché si parla di importanti disabilità. Abbiamo molti ragazzi con l'autismo quindi ci sono delle tecniche da affinare dal comportamento, dal capire bene per poter anche andare a lavorare con il privato. Questo progetto intanto è un'opportunità che le scuole del territorio possono comunque utilizzare per far sì che i ragazzi sono sempre integrati, sono sempre con i bambini, quindi con il percorso sensoriale che mettiamo a disposizione, sensoriale perché offriamo ai bambini del territorio la possibilità di riscoprire quanto è bello l'udito, la vista, il tatto, l'olfatto e tutto quanto che è vitalità e insieme con i ragazzi, quindi opportunità di lavoro è anche questa. C'è poi anche un percorso sportivo. Un fiore all'occhiello è con la scuola basketarezzo perché uno è perché i ragazzi si abitano anche alle autonomie, perché facciamo anche oltre che con il nostro pulmino facciamo anche lo spostamento con l'autobus, quindi è un percorso di autonomia. In più giochiamo veramente a basket con una scuola importante insieme ad altre realtà, ad altri ragazzi e andiamo anche a vedere le partite, quindi siamo proprio lì per entrare in una squadra. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!